E' tempo di bilanci in tutti i comparti, in tutti i settori, naturalmente l'amministrazione del capoluogo ha vissuto un anno non semplice, grandi cambiamenti anche per il vice sindaco Giacomo Moscarola. Allora, iniziamo insomma, come è andata quest'anno, quali sono le cose che magari ricorda con più amarezza e con più piacere? Ma diciamo che per il settore che ho avuto dall'inizio dell'anno, quindi lo sport, la polizia municipale, la protezione civile, ci sono state grandi soddisfazioni, in particolare per quanto riguarda lo sport. Abbiamo portato a quest'estate qui a Biella dei campioni o dei personaggi del tipo Javier Zanetti o Pioli, l'allenatore del Milan, o Sonego, il numero 23 al mondo dell'ATP di tennis e hanno fatto, nell'ambito di campioni sotto le stelle, hanno riempito la piazza, hanno portato il nome di Biella in tutta Italia perché la Gazzetta dello Sport e tutte le testate sportive hanno ripreso la loro intervista e l'hanno mandata su tutti i media nazionali. Quindi Biella è stata il centro per qualche serata dello sport nazionale. Poi abbiamo avuto tantissimi tornei di tennis, sette tornei di tennis internazionali ATP, con uno dei quali con la partecipazione di Andy Mare, che era stato il numero di uno al mondo, e anche lì la BBC e tutte le testate giornalistiche internazionali questa volta hanno parlato di Biella. Quindi dal punto di vista sportivo grandissime soddisfazioni. Per quanto riguarda la Polizia Municipale stiamo cercando di ricompattare un po' il reparto, che negli ultimi anni era stato un pochettino tralasciato, quindi abbiamo preso due ufficiali in più, che tra le altre cose sono due ufficiali donne, per la prima volta nella città di Biella ha due ufficiali donne, e adesso, entro fine anno, faremo un nuovo bando per l'assunzione di altri sette agenti, perché c'è da dire, questa è una delle note meno positive, che nel concorso scorso, su sette agenti che avevamo preso, cinque sono andati via. Sono andati via non certo per incompatibilità con l'amministrazione, ma perché hanno vinto dei concorsi più vicino a casa loro, e capisco che un toscano o un pugliese che vince un concorso a casa sua tende a tornare a casa. Quindi questo ci ha provato un pochettino di problemi, ma con questo nuovo concorso riusciremo sicuramente a rimpinguare l'organico. In ultimo, nell'ultimo mese ho avuto la delega per l'attuazione del PNRR e dei bandi, mi sono subito messo all'opera scartabellando bandi su bandi, passo le nottate a leggermi i bandi, abbiamo partecipato adesso al bando sull'edilizia popolare residenziale, abbiamo chiesto 5 milioni per rimettere in sesto un centinaio di alloggi. La città di Biella ha tantissimi alloggi della residenzialità popolare da sistemare, ne abbiamo un totale di circa 300, di cui 150 in condizioni precarie, quindi se riusciremo a ottenere tutto questo bando sarà una spinta importantissima per dare questi alloggi a chi ne ha effettivamente bisogno.